Il fuoco continua a bruciare l'isola di La Palma. Alle Canarie il vulcano Cumbre Vieja, vecchia vetta, non arretra ma prosegue ancora. L'eruzione è cominciata il 19 settembre scorso. Le immagini registrate questa mattina catturano il fumo e le fiamme. Le autorità hanno revocato l'obbligo di rimanere chiusi in casa, emanato ieri per circa 3.500 persone alla Palma. Una misura d'emergenza presa dopo che la lava ha raggiunto una zona industriale ed è scoppiato un incendio in una fabbrica di cemento provocando l'esalazione di gas potenzialmente nocivi per la salute. Seppur revocata, la misura potrebbe essere ripresa visto il comportamento del vulcano. In una parte del sud dell'isola è stato registrato nei giorni scorsi un alto numero di scosse sismiche. Il governo regionale delle Canarie ha reso noto che il ritorno in classe di circa 4.600 alunni, 583 insegnanti, previsto per domani, verrà posticipato.